Visual Merge di Eneroth è un plugin con cui si possono nascondere automaticamente una serie di linee vediamo brevemente pro e contro di questo tipo di estensione una volta installato, poi farò vedere anche dove trovarlo e quanto costa una volta installato ci presenta questi due pulsanti con cui possiamo fondere tra virgolette assieme oggetti che altrimenti come si vede c'è una linea di demarcazione fra questi muri appaiono separati quindi un click e un click un po' come faremo praticamente con gli strumenti solidi solo che in differenza degli strumenti solidi in particolare lo strumento unione dove 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 eccolo qua oppure struttura esterna che uniscono realmente in un unico solido i due volumi qui questi rimangono gruppi distinti questo rimane un gruppo e questo rimane un gruppo se riattivo il piano di sezione però scopriamo un attimo che cosa sta succedendo che quella linea ma anche quella faccia che stava a contatto fra i due oggetti vengono messi su un tag a parte visual merge eccolo qui questo va capito questo comportamento perché può avere dei pro può avere dei contro vediamo intanto termino facendo vedere anche secondo pulsante che cosa va a fare secondo pulsante lo utilizzo dopo aver selezionato un oggetto che so che aveva che so che su quell'oggetto era stato utilizzato visual merge e quindi quel secondo pulsante diventa selezionabile lo clicco e gli va a togliere quella modifica che era stata impressa per l'appunto cioè il fatto che venissero collocati quella linea e quella porzione di superficie che confinava con un altro oggetto erano stati posizionati su un tag a parte come si vede va fatto su entrambi gli oggetti che erano stati coinvolti dall'unione qui l'ho spostato proprio per far vedere che cosa era successo cioè sono proprio due gli oggetti coinvolti quindi lo faccio rivedere possono essere muri possono essere solai può essere qualsiasi tipo di oggetto ovviamente con il primo clicco e clicco e vengono uniti insieme poi clicco sulla freccia nera per tornare a selezionare quello che mi pare funziona perfettamente sembrano tutt'uno in realtà sono due oggetti distinti da notare che il volume scompare non ho più il volume dell'oggetto questo è un primo aspetto abbastanza contro non pro ma contro perché a me vediamo un po' l'originale qua sulla sinistra il volume mi interessa degli oggetti attenzione qua nemmeno si vedeva perché probabilmente avevo lasciato qualche buco io da qualche parte però vabbè lavorando bene diciamo che io dei muri voglio avere volume il fatto che venga una porzione dell'oggetto rivediamola nascosta su un tag a parte significa creare un buco nell'oggetto a tutti gli effetti poi basta saperlo ci si orienta c'è chi può dire a me non me ne importa niente mi va benissimo lo stesso c'è chi invece dice no ma come il computo mi va mi va per aria il computo quindi non mi sta bene ecco per invece tornare sui nostri passi cosa faccio seleziono aspetta disattivo visual merge visually merged e seleziono l'oggetto seleziono l'oggetto quindi insomma è perfettamente reversibile non è complicato affatto sono solo due pulsanti facilissimo da utilizzare teniamo un po' presente questi aspetti di gestione poi come dire che va si a attenzione ogni tanto bisogna stare attenti un po dove si seleziona allora un click e un click ecco ad esempio adesso è successo qualcosa di strano rifaccio c'era un piano di sezione attivato e quindi non ha avuto un qualche comportamento inaspettato ecco ad esempio adesso non sta proprio più funzionando questa cosa è veramente strana non sta proprio funzionando non capisco come mai sto facendo gli stessi identici passaggi quindi insomma ecco attenzione capita insomma con le tensioni di avere comportamenti strani quindi qui probabilmente sono incappato in qualche bug il fatto che abbia attivato o disattivato i piani di sezione l'ha messo un po' nel pallone non capisco va beh mi fermo qua quindi teniamo presente insomma ci possono essere dei pro ci possono anche essere dei contro lo scopo del video era semplicemente farli vedere visto che li avevo notati per concludere va detto anche che in realtà sono personalizzabili quindi questa modalità di nascondere le varie parti qui allora nel menu estensioni Eneroth visual merge options allora posso scegliere se le facce che fanno parte dell'unione del merge vengano nascoste oppure no e se la modalità di nascondere è su di un layer quella che è impostata di default che abbiamo appena visto oppure se diventa geometria nascosta questo mi avviso risolve in parte però risolve soltanto in parte questo funzionamento questo questo perché le esigenze poi sono tante specialmente se si fanno demolizioni e ricostruzioni ci sono adesso ad esempio le impostate tutte e due così vediamo cosa cambia clicco su uno clicco sull'altro effettivamente insomma tornano ad essere nascosti se attivo la vista di pianta di per sé funziona certo che non vedo comunque unita la campitura trattandosi di muri differenti questo è un po' un peccato e il tutto non è gestito attraverso un layer poco male insomma è una modalità semplicemente leggermente differente di nascondere queste linee anche questa comunque tutto sommato ben funzionante attenzione stavo dimenticando allora dove andiamo a trovare extension warehouse andando a scrivere Eneroth che è stata una prolifica creatrice di estensioni visual merge Giulia Eneroth visual merge lo troviamo subito costa 15 dollari basta fare un click qui adesso c'è scritto install perché io l'ho già acquistato altrimenti il pulsante sarebbe purchase per 15 dollari ci fai un click ti permette di andare ad acquistarlo e quindi poi lo puoi tornando in questa finestra lo puoi installare il pulsante diventa install e quindi lo puoi installare e iniziare ad utilizzare immediatamente grazie 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 grazie